Professor Vecchiette, qual è la situazione? Crescono i positivi in Abruzzo? Stanno pian piano aumentando anche le ospedalizzazioni? Qual è la situazione in generale? Le chiedo anche qual è la situazione qui a Chieti, alla clinica di malattie infettive che le dirige. Sì, il dato glielo posso confermare. Ovviamente aumentando il numero dei positivi sul territorio sappiamo che una percentuale di questi ha una evoluzione della malattia che deve necessariamente portarli al ricovero e quindi noi negli ultimi giorni abbiamo notato un incremento della richiesta di ricovero da parte di pazienti positivi al tampone. Parliamo di pazienti non vaccinati, professore? Nell'80% sono pazienti non vaccinati, poi ci possono essere anche soggetti vaccinati che però hanno numerose comorbidità, hanno un'età avanzata. Direi che dal punto di vista dell'efficacia e della efficienza della vaccinazione io non avrei dubbi perché in ogni caso chi è vaccinato raramente sviluppa quei quadri respiratori così complicati e aggressivi che vediamo nei soggetti non vaccinati. Ci sono alcune classi in quarantena, ci sono diversi casi anche nelle scuole, tra un mese è Natale, professor Vecchiet. Tra poco arriveranno anche i primi freddi, c'è da essere moderatamente preoccupati? Ma guardi, io credo che la regola della prudenza debba essere mantenuta. Sicuramente in questo momento parte di questa ripresa della pandemia è legata ai soggetti non vaccinati, però io credo che ci sia stato un calo di attenzione da parte di tutti. E quindi anche il Green Pass, che è una delle misure adottate, di per sé secondo me non deve essere preso come un lascia passare per fare comunque quello che si vuole. Cioè la regola del distanziamento, della mascherina, della sanificazione delle mani rimane uno di quei presidi assolutamente essenziali, soprattutto in questo momento. Professore, per chiudere, ovviamente è iniziata già da settimane la terza dose, è arrivata la terza dose anche per gli abruzzesi, ma quando arriverà invece la pillola per il Covid? Sembrerebbe che a gennaio sarà già disponibile, questo sicuramente aiuterà molto nella gestione delle cure, ad esempio domiciliari, però ricordiamoci che nessun farmaco sostituisce la vaccinazione, perché la prevenzione è essenziale e anche questa compressa sembrerebbe avere una tempistica essenziale, cioè viene data nei primi momenti della malattia, quindi se si perde il timing si rischia di fare un buco nell'acqua.